Coniugare il binomio Modo e Cultura attraverso il comune denominatore dell'arte. E' questo uno degli obiettivi della partnership nata tra la reggia designer outlet del gruppo MacArthur Glen e il prestigioso Teatro San Carlo di Napoli. L'inizio della collaborazione è stata celebrata con l'inaugurazione della mostra Preta Parterre di Moda e Modi al San Carlo e allestita all'interno degli spazi dell'outlet campano. Una rassegna che doveva durare fino al 31 maggio e che invece, grazie alla cospicua affluenza di visitatori, è stata prorogata per tutto il mese di giugno. Fabio Rinaldi, Center Manager della reggia designer outlet, evidenzia come la partnership si compone di diverse attività, una delle quali è la mostra. Che ha coniugato la moda, che è un po' il nostro ambito, la cultura, che è un po' l'ambito del Teatro San Carlo di Napoli, cercando di dare una visuale di come sono cambiate i modi, gli usi e i costumi in fatto di moda dagli anni 50 ad oggi. Questo come l'abbiamo ottenuto? L'abbiamo ottenuto tramite una mostra di scatti fotografici, di abiti di scena e accessori di scena, che portano il visitatore a percorrere questi 70 anni di moda, di ospiti del Teatro San Carlo, spesso alle prime delle opere del teatro, e che quindi danno un po' un senso di come si è evoluta nel corso del tempo la moda, il modo di vestire, il modo di essere anche della clientela napoletana e dei visitatori del Teatro San Carlo. Una raccolta di foto d'epoca, abiti di scena e accessori provenienti dal Museo e Archivio Storico del Teatro Napoletano attraverso scatti, alcuni dei quali dell'archivio fotografico Riccardo Carbone, che ritraggono personaggi e abitui del massimo napoletano, tra i quali Edoardo De Filippo, Totò, Maria Callas, Sofia Loren, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. L'esposizione rappresenta solo il primo passo di una collaborazione annuale tra la Regia Designer Outlet e il Teatro San Carlo, articolate intorno a diversi progetti, evidenzia ancora Rinaldi. Mercato Glen non è nuova, ha binomi moda-cultura. Diciamo che per noi è sempre stato nelle nostre corde quello di non essere solo una destinazione di shopping, che è un po' il nostro core business, ma di essere anche una destinazione a livello culturale e diciamo una destinazione per dar modo alle famiglie e ai clienti di passare qualche ora spenserata, e mai come in questo momento ce n'è bisogno, all'aria aperta in un contesto curato e che magari insieme allo shopping coniuga anche un po' di cultura.